Ricordo quando da bambina mio padre mi portava a nuoto alla grotta di Polifemo. Dovevo tornare a Palermo per ritrovare i racconti che ci facevano i nonni toscani. Da lui, Mimmo Cuticchio, e da questa città ha inizio la mia storia. Tutto questo nasce sulle rovine di una città greca, dove Eschilo veniva a scrivere le sue tragedie, dove per la prima volta parlò di emigrazione, di accoglienza, ma soprattutto parlò di democrazia. Giuseppe Inzalaco, morto per noi, Pier Santi Mattarella, morto per noi. Correte tosta a ghiaggere con via! Un teatro nuovo che partiva dalla tradizione. È una storia di lotte, persecuzioni, è una storia di obbligio. Il punto è testimonianza, è trasmissione di sapere. Lo conto.